anche foggia sold out con antonio stornaiolo miglio sol frizzi capodanno con le risate appunto oltre a voi due ci sarà anche shakespeare stasera da dove iniziamo da emilio dai da emilio con noi due ci sarà anche shakespeare perché abbiamo scoperto io chiedo scusa per la caramella ma e contiene l'erissimo l'erissimo per le corde vocali perché siccome veniamo da molti spettacoli uno dopo l'altro e allora i sold out tutti soldi si si hanno pagato tutti proprio siamo felici di questa cosa allora mi sto nutrendo le corde vocali perché non aveva fatto una domanda su shakespeare sì noi saremo in tre perché abbiamo scoperto di essere compagnucci e noi ci piace proprio spiegare in questo questo essere compagnucci a tutto quanto il pubblico per perché io insomma io mi ricordo quando noi eravamo bambini quando ci raccontavano di questi grandi questi erano noniosi erano io io mi immaginavo che shakespeare nascesse già vecchio con la barba tutto imbolsito dopo un minuto che era nato aveva già compiuto 51 52 anni non è vero i più grandi dell'umanità hanno reso grande l'umanità da giovani questo un inno alla provincia e alla giovinezza giovinezza intesa come età certo forse non dovremmo farlo noi questo volevi dire questo no 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 noi abbiamo noi invece rilancio non solo detto che abbiamo fatto tutti soldati ma noi ci vedete così ma noi abbiamo uno spirito giovanissimo noi coltiviamo il bambino che noi siamo rimasti deficienti comunque il pubblico di foggia vi ama la dimostrazione questa sera con un doppio spettacolo sì sì noi siamo grati proprio al pubblico di foggia noi siamo grati al pubblico proprio in generale devo dire ci sta tributando un affetto che lui non si merita perché tra noi due io sono sicuro di meritarlo l'ho fatto tanto per militare lui ha lavorato di meno voi non ci crederete ma io gli do ragione sì sì è meraviglioso meraviglioso vedere il teatro del fuoco che poi ci dà anche l'idea di questo capodarso e di la carica giusta questo calore questo calore della bell'affetto del pubblico di foggia che noi speriamo di restituire con un bello spettacolo con delle belle risate anno nuovo si dice sempre speriamo che sia migliore di quello passato che cosa vi auspicate intanto ci auspichiamo che la cina si stia un po nella cina ecco perché in questi venti di kobe che stanno arrivando dalla cina ci preoccupano un po e quindi speriamo ecco che questo sia solamente una questa è una visione diciamo mondiale del nuovo anno che io condivido totalmente per me vogliono scendere un po più del particolare io per quanto mi riguarda nel 2023 spero innanzitutto la salute perché la salute guardate o dire la pace o non è perché a volte la pace non è divertente però io per me proprio vorrei la salute e tanto sesso lo dico perché nonostante l'età dentro di me non c'è solo il bambino c'è anche l'adolescente che ancora vuole io mi invece pensavo che lui avesse superato già questo problema invece vedo che ancora a te ancora piace si scoprono delle cose cose dicevi come si chiama sta cosa sesso no dei ricordi lui sta esalando in realtà siete fortunati perché non è detto che ne possa fare una brutta chiusura di intervista che stai facendo sol fritz proprio a me che sono ipocondriaco sciolla sciolla bene bene non vediamo l'ora di incontrarvi come detto che si chiama prosegue la stagione teatrale al teatro del fuoco di foggia dopo il tutto esaurito con antonino il 26 dicembre capodanno con sol frizzi e stornaiolo all'insegna delle risate della spensieratezza in attesa di altri appuntamenti in questo mese di gennaio allora con gianni calabrese facciamo il punto di una stagione che sta ottenendo successi sperati assolutamente sì grandi successi tantissimi sold out stiamo collezionando veramente grandi soddisfazioni dopo il grande successo con antonino il 26 della serata è stata dedicata in beneficenza a lotta alla del 12 cimie abbiamo fatto il 27 un altro sold out con il ditelo voi questa sera doppio sold out con Emilio Solfizzi e Antonio Stornaglio tutto il mondo è un palcoscenico prossimamente abbiamo 11 gennaio Carlo Bucci Rosso con la sua commedia molto molto carina e apprezzata è una replica del 9 dicembre quindi a grande richiesta replichiamo questa questa commedia e poi ci abbiamo il 20 gennaio Chiara Francini che è già tutto sold out con l'altra commedia di Franca Rama e Dario Fo coppia aperta e quasi spalancata insomma la gente si sta nuovamente innamorando del teatro anche a Foggia beh senza dubbio io devo ringraziare assolutamente l'amministrazione provinciale che è il presidente Gatta perché ha voluto fortemente sostenerci per questo cartellone e quindi siamo qui con grande passione a portare avanti questa stagione che si concluderà alla fine di aprile e contiamo di collezionare ancora tanti altri sold out grazie grazie